È fondamentale attrarre investimenti, intelligenze. Il mondo vuole l'Italia, noi dobbiamo smetterla di pensare che l'Italia sia soltanto un luogo pieno di problemi. Oggi, qua nel cuore dell'innovazione, nel cuore dell'innovazione dell'IBM mondiale, abbiamo presentato un progetto che porterà nell'area dell'Expo alcune tra le più grandi intelligenze del mondo. Intelligenze che permetteranno di star meglio, che permetteranno di investire nella sanità. L'Italia è il paese in cui si vive più a lungo dopo il Giappone, dobbiamo fare di tutto per vivere bene. Ecco, il compito del governo non è stare dietro alle polemiche, ma portare questi grandi partner a investire in Italia. E credo che sia una cosa francamente importante per il futuro dei nostri figli e dei nostri nipoti. Bia bamottosa. E questo è un po' tranquillo diondazione. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.